Bentornati amici! Siete pronti a giocare? Ed ecco la missione di oggi! Romeo va sulla luna! Iniziamo! DJ Musk! Fatemi entrare! Eita! Che cosa ci fai qui? Ve lo dico se mi fate entrare! Ok! Ti conviene non tramare nulla lunetta! Si tratta di Romeo! Ha rubato il mio lunamagnete ed è scappato sulla luna! Ho bisogno del vostro aiuto per andare a... Sulla luna? Non lo so ragazzi! Al quartier generale dello... Wow! Guarda le stelle laggiù! Forza! Dobbiamo andare più veloce! Premi questo pulsante per accelerare! Hai ragione PJ Robot! Ma abbiamo promesso di aiutarla! Ottimo lavoro! Raccogli più gemme che puoi! Se le prendi tutte, sbloccherai una ricompensa! Possiamo andare più veloci di così! Premi questo pulsante per accelerare! Ok! Possiamo andare più veloci di così! Premi questo pulsante per accelerare! Ottimo lavoro! Ottimo lavoro! Ottimo lavoro! Ottimo lavoro! Sì, non è vero. E' bello viaggiare nello spazio! E' bello viaggiare! Questa è un muro alto! Usa il super gatto Buz per salvarlo! Uuuu guardate cosa è il muro alto! Ok non c'è più niente possiamo proseguire! Devo dire padrone che questo è uno dei tuoi piani migliori fino ad ora! Certo! Con tutto il potere di queste rocce potrò finalmente conquistare il mondo! E' impossibile che Peach e Musk riescano a seguirci fino a qui! Ottimo lavoro! Questo è un muro alto! Usa il super gatto Buz per saltarlo! Oh no! Il sentiero è diviso in due! Come capire dove andare? Meno male che c'è l'udito gatto! Oh no! Ok ti diamo prima! Se le prendi tutte riceverai una ricompensa! E poi andiamo a recuperare le altre! Eccole! Ottimo lavoro! Ottimo lavoro! Guffetta tocca a te! wow deve essere bellissimo guardate sulla luna guardate in fondo si vede il mondo la porta si muove troppo veloce qualcuno deve andare dall'altra parte e premere il pulsante per tenerla aperta chiamiamo il gatto boy super gatto velocità grazie continuiamo c'è un amuleto vicino a te cercalo ben fatto ottimo lavoro ben fatto wow se no riuscite anche a schimare il primo robot il secondo no ben fatto ah non ho preso anche il terzo ben fatto saliamo gecko sto rilevando un amuleto speciale nelle vicinanze tienilo d'occhio ok amici e voi qual'è il super potere che vorreste avere? che vorreste volare? o avere la super forza? mentre scali i muri ho la super velocità ho il super udito i poteri dei nostri amici pigiamini sono fantastici asticci oh c'è un robot devo stare attenta ci sarà un amuleto? si c'è qualcosa che blocca la strada ma non posso più tornare indietro ormai i muscoli da super gecko facilissimo continua dobbiamo prendere romeo continua a raccogliere gemme mentre scali i muri va bene ok io mi sono andati mi? 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 credo proprio mi? 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 muscoli da super gecko e ora grazie a tutti questi cristalli lunari raccolti da romeo posso finalmente fare questo hai riavuto il tuo magnete lunetta ora riponiamo i cristalli e andiamo a casa riporli non credo proprio anzi penso che li terrò per me mi sembra giusto dopo tutta la fatica che ha fatto romeo per estrarmi ma se volete così tanto tornare a casa lasciate che vi aiuti e si è finita anche questa missione e come potevamo immaginare era meglio non fidarsi di lunetta abbiamo raccolto 179 gemme in tutti gli amuleti bene lunetta ci ha chiesto di aiutarla a recuperare solo una magnete dopo che romeo l'aveva rubato e portato sulla luna siamo riusciti a trovarlo ma lunetta ci ha imbrogliato e ci ha rimandati a casa bene amici spero che vi siate divertiti anche oggi lasciatemi un bel like e iscrivetevi al canale ciao alla prossima ciao